Bene, a Bologna porteremo la nostra esperienza, quello che stiamo facendo in questo momento in termini di innovazione condivisa e quindi vorremmo anche portare a casa ovviamente le esperienze degli altri e condividere. Riteniamo che questo sia importante perché stiamo procedendo su un percorso di attivazione della partecipazione attiva e di stimolazione della stessa, perché vorremmo portare a casa ciò che ci consente di attribuire valore a quello che non conosciamo, che è esterno, che non è familiare, che è un po' la sfida per il futuro, per poter iniziare a crescere come comunità e ovviamente come municipalità. I temi che invece vorremmo far emergere sono legati soprattutto a come condividere questo percorso con le altre istituzioni locali, come far crescere la consapevolezza che è necessario avere un comune sentire e attivare un percorso comune.